Domani 6 gennaio, giorno dell'Epifania. L'Epifania tutte le feste porta via, ma è sempre l'occasione per gustare i dolci. Con noi le pasticcere Nisseno Lillo de Fraia, anche quest'anno il carbone per i più cattivi, anche se è buonissimo. Sì, per i più cattivi, ma oggi penso che i bambini cattivi non ce ne siano assolutamente come penso non ce ne siano mai stati. E forse siamo stati noi che non abbiamo dato le dritte naturali, giuste, per fare crescere in maniera educata al 100% i nostri figli. Quindi il carbone forse lo meritiamo più noi di coloro. Il carbone è sempre di zucchero, sempre gustosissimo. Come viene realizzato? Allora, questo praticamente avviene una fusione tra caldo e freddo, quindi si fa bollire lo zucchero intorno ai 115 gradi. Dopo di ciò si prepara a parte una glassa con del colorante vegetale nero, che nella fusione tra le due componenti, quindi lo zucchero bollente e questa ghiaccia reale, glassa cosiddetta, avviene proprio un contrasto termico come quando la nostra brava Etna va in eruzione. Le calze vengono riempite di carbone ma anche di altri dolci, ma qui davanti possiamo notare dei dolci veramente particolari. Lei ha detto che sono delle grandi occasioni. Effettivamente sono talmente lucidi che sembrano finti. Che dolci sono? Allora, questi sono sempre dolci dal convento, quindi conventuali. Questi sono i dolci da riposto, non da riposto a giarre, ma da ripostiglio. Quindi sono i dolci che queste suore e le famiglie nobili tenevano dentro lo sgabuzzino, dentro un contenitore di vetro all'interno dei pizzi molto delicati. Nell'occasione che c'era la visita inaspettata, loro uscivano fuori questi dolci, perché possono stare anche due mesi. Ma di cosa sono fatti? Allora, la farcitura, diciamo, è con il territorio, quindi in questo caso abbiamo una farcitura fatta, diciamo, con delle mele cotogne cotte, quindi una cotognata. L'esterno, diciamo, alla pasta reale o della frutta di martorana. Poi, esternamente ancora, vengono, diciamo, ricoperte con dello zucchero e infine, diciamo, vengono gelatinate per renderle molto splendente. E per concludere, quindi, a chi ha fatto il cattivo e il carbone, a chi è stato un po' più buono, cosa offriamo? Dare il carbone a voi non lo meritate perché sicuramente non siete stati cattivi, stesso discorso per i bambini. Voi vedo qualcosa di diverso, che non è in carbone, però è molto buono. Quindi, diciamo, un brutto e buono che realmente ha all'interno, diciamo, sempre il territorio, ha le mandorle e al pistacchio e ha delle marmellate particolari. Buona epifania a tutti!